L'Inps ha recentemente fatto sapere che non accetterà più domande di reddito di cittadinanza a partire dal 31 novembre, in vista della sua revoca che verrà applicata dall'ultimo dell'anno. Questa disposizione avrà notevoli ripercussioni sulle molteplici famiglie cremonesi che lo percepiscono ad oggi, specialmente a fronte della galoppante povertà testimoniata dai report provinciali e nazionali. Questo chiaramente può impattare in maniera molto significativa sul nostro territorio, proprio perché attualmente, secondo dei dati ricavati direttamente da un report dell'Inps, sono appunto più di 1900 i nuclei familiari cremonesi che stanno godendo di questa misura. Pertanto il dubbio che ci viene è proprio quello che, rispetto già a una situazione di aumento della povertà che anche i dati Caritas, anche a livello nazionale, stanno dando e che impattano anche sulla nostra provincia, questa eliminazione dell'edito di cittadinanza, non accompagnata anche da politiche serie di ricollocazione, quindi di accompagnamento al lavoro, possono mettere ancora più in difficoltà queste famiglie. Quindi vedremo come l'assegno di inclusione, che appunto ha anche delle caratteristiche ancora più restrittive, possa dare delle risposte. Noi come CGL abbiamo seri dubbi in proposito. Tale misura va a sommarsi ai temi al centro dello sciopero di settimana scorsa, legati soprattutto al precariato e ai bassi salari che affliggono migliaia di lavoratori nel territorio.